Torna all'attacco Cosimo Panico di Comitato Civico e Ambientale. Gli uffici comunali scrive in estate e di pomeriggio, per il grande caldo, nei giorni di accesso al pubblico restano chiusi da ormai alcuni anni. I cittadini continua a lamentare i disservizi e lo spreco di denaro pubblico, in quanto l'impianto trigeneratore è inefficiente dalla sua installazione. Si tratta del sistema per la produzione di aria calda e fredda, ubicato presso l'odificio comunale di Piazza Aldomoro. Panico ha scritto al comune di Battipaia, alla sindaca cicilia-francese e ai consiglieri comunali per avere delle delucidazioni in merito. A tuttora si legge nella missiva, non è dato sapere, e spero ci sia una risposta, se siano state recuperate le somme dalla ditta esecutrice dei lavori, che ammontano ad oltre 800 mila euro. Per tali interventi, aggiunge Panico, è stato emesso atto di diffida e messa in mora alla ditta esecutrice dei lavori. Una richiesta di informazioni dunque basata su un ulteriore spreco di denaro pubblico e sulla quale si dovrà fare chiarezza.